cari figli in questo tempo di grazia vi invito tutti ad aprirvi e a vivere i comandamenti che dio vi ha dato affinché attraverso i sacramenti vi guidino sulla via della conversione il mondo le tentazioni del mondo vi provano voi figlioli guardate le creature di dio che nella bellezza e nell'umiltà lui vi ha dato ed amate dio figlioli sopra ogni cosa e lui vi guiderà sulla via della salvezza grazie per aver risposto la mia chiamata